La salute è un diritto di tutti, ma sino ad ora senza tetto. Migranti e minori non accompagnati spesso sono stati dimenticati dalla campagna vaccinale in corso. Per questo motivo da Andrea è partito un progetto che proverà a cambiare le sorti dei meno fortunati. Ieri pomeriggio a Casa Accoglienza a Santa Maria Goretti sono state effettuate le prime 20 vaccinazioni anti-covid per gli ospiti della comunità Migrantes Liberi, un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASLBAT e che proseguirà anche nei prossimi giorni. A parlare del progetto è Don Jeremia Acri, responsabile di Casa Accoglienza, che spiega l'importanza delle somministrazioni dei vaccini per senza tetto e migranti. Negare loro il farmaco sottolinea è un'ingiustizia per la comunità andriese e senza dubbio una bella giornata da ricordare. Una bella giornata non per Casa Accoglienza soltanto, ma una bella giornata per l'intera comunità cittadina, regionale e nazionale perché queste persone, i migranti irregolari, i senza fissa dimora e quindi comprendono anche i cittadini italiani e i minori non accompagnati hanno aderito, hanno capito l'importanza di essere vaccinati, hanno aspettato pazientemente il loro turno, hanno dato la precedenza a chi poteva prenotarsi perché loro non possono prenotarsi attraverso i canali istituzionali. Viviamo questa bella esperienza che è un atto di giustizia, non è un atto di carità che facciamo nei confronti di queste persone. Le vaccinazioni come detto proseguiranno nei prossimi giorni con una media di circa 20 somministrazioni al giorno sino ad arrivare ad un totale di circa 100 vaccini inoculati. Negli occhi degli ospiti di Migrantes Liberi tanta emozione ma soprattutto felicità per un momento forse inatteso e che ora diventa realtà. C'è molto entusiasmo, sono contenti perché hanno avuto paura, hanno paura, quindi non sono usciti con tutte le restrizioni, hanno sempre le mascherine e quindi loro hanno compreso che questo atto di vaccinarsi potrebbero un attimino renderli un po' più liberi e più tranquilli ed è bello leggere nei loro occhi il sorriso e la felicità. Grazie. Grazie. Grazie.